Ci leghiamo a delle relazioni che col tempo poi diventano tossiche. Non ho niente a che vedere con l'amore. Quella è droga. Quasi 25 anni di carriera. Da così tanti, so. 25 già. Ciao. Fabrizio Moro, benvenuto su Today. Ciao. Come stai? Molto bene. Ho appena finito questo tour che mi ha regalato delle sensazioni intense. Quindi torno a casa arricchito e mi sento bene. Adesso esce il disco. Esce il nuovo EP, la mia voce, volume 2. Dove è il primo singolo? Sì. Quante volte ti sei chiesto dove e dove sei oggi? Ogni giorno. Mi chiedo dove sono diretto. Mi ricordo da dove sono partito ma spesso perdo la punta d'arrivo. Però questo è un bene. È un bene perché comunque anche essere sempre convinti del punto in cui devi arrivare secondo me rende la vita un po' noiosa. Tu ti diverti quindi? Mi diverto, vivo. Per vivere ho bisogno insomma di non sapere quello che deve accadere, quello che dovrà succedere in questo percorso bellissimo. Nella canzone tutta la voglia di vivere c'è questa frase, ti svegli prima delle tue paure che prima o poi qualcuno guarirà. Si può guarire da tutte le paure? Questa è una visione romantica e ottimista del futuro. Si può guarire da tutte le paure secondo me quando si incontra l'amore. Quando incontri l'amore vero allora forse questa è l'unica medicina, l'unico metodo per guarire dalle paure. Tu le guarite? Io ne ho diverse ancora, però alcune anche grazie all'amore, non soltanto all'amore in una relazione, intendo proprio l'amore generale, dal punto di vista più espansivo, grazie all'amore magari dei miei figli, all'amore dei miei amici, all'amore che questo mestiere comunque mi trasmette ogni giorno, ho guarito da tante paure. A proposito di amore, in tutte le parole racconti un tuo malessere nato da una relazione tossica, quando hai deciso che dovevi dire basta? Beh, quando pensavo a vedere un Fabrizio che non mi piaceva più, ci sono delle persone che hanno il potere tra virgolette di far uscire la parte più brutta di te, quella che cerchi con lucidità di nascondere, però a volte ci leghiamo a delle relazioni che col tempo diventano tossiche, perché generano in noi una sostanza che crea dipendenza, con quel tipo di adrenalina e di sensazione che tu provi per esempio all'inizio di una storia, ecco io ero sempre attratto da un certo tipo di persone e da quel tipo di adrenalina, che non hanno niente a che vedere con l'amore, quella è droga, ecco perché si chiamano poi le relazioni tossiche, perché sviluppano in te quel senso di bisogno che genera la droga anche e col tempo poi impari a gestirle queste cose, se la tua parte lucida è più imponente di quella distruttiva, anche con un po' di vecchiaia. La maturità serve con questo quindi? La maturità ti ha fatto? La maturità, le esperienze che ho avuto, siccome sono stato sempre una persona, come ho detto prima, sono una sorta di ricercatore, non riesco ad accontentarmi dell'equilibrio e ho bisogno di stimoli, quindi attraverso diciamo questo movimento ogni tanto riesco ad acquietarmi anch'io, mi hanno aiutato gli anni, l'esperienza, il lavoro, tutto quello che è accaduto in questi vent'anni di storia soprattutto. L'amore malato ormai può essere considerato uno dei mali di questa società, secondo te cos'è che inquina i rapporti tra le persone oggi? Secondo me la non trasparenza, la paura di non essere accettati, sei pronto per una relazione quando riesci ad accettare tutti i tuoi punti deboli, secondo me in quel momento lì sei pronto per condividere la tua vita, le tue cose più importanti con un'altra persona, finché non colmi quelle lacune, quelle paure e non trovi un tuo equilibrio interiore, è difficile insomma condividere la tua vita con un altro essere umano. Tu sei stato il primo a dare a ultimo la possibilità di farsi conoscere facendogli aprire i tuoi concerti, lui lo ricorda sempre e ti è immensamente grato, lo dice spesso, oggi nella musica mancano queste occasioni genuine, di dare una mano a qualcuno e anche di fare rete tra artisti? Beh c'è un po' di invidia tra gli artisti, questa è una cosa che io ho avvertito, nei momenti in cui mi sono trovato a collaborare o a poter collaborare con diversi colleghi, però c'è anche chi, non parlo di me, però ho conosciuto anche tante persone, tanti artisti che hanno una, artisti più importanti, artisti grandi, che hanno una sensibilità e un'empatia non indifferente, cioè non sono, c'è ancora questa possibilità, devi saperla trovare e poi saperterla giocare nel modo giusto, come ha fatto Nicolò. Tu invece devi dire grazie a qualcosa o a qualcuno? Beh ci sono tante persone che devo ringraziare, le carriere che vanno in un certo modo e che diventano poi insomma fluorescenti a un certo punto, hanno sempre bisogno di una squadra, non si è mai da soli, comunque da soli non arrivi da nessuna parte, devi sempre dire grazie a qualcuno secondo me. E essere cresciuto in una periferia come San Basilio, come è inciso nel tuo modo di essere e anche nella tua musica? Per me è stato un punto di forza, cioè crescere, vivere e crescere in un quartiere bellissimo secondo il mio punto di vista, come San Basilio e come Setteville poi, che era inizialmente la periferia della periferia, è stato sicuramente un punto di forza interessante nella mia esistenza perché poi quando le cose te le devi sudare impari a farle meglio rispetto a quando arrivano subito, questo è un mestiere che devi imparare nel tempo, non si tratta di arrivare, fare una canzone, raggiungere le vette, i numeri, quello è un successo diverso, però poi durare nel tempo, cercare di essere sempre lì, di non demordere, di non abbatterti soprattutto quando arrivano i momenti difficili perché poi arriveranno sicuramente, per tutti, ecco quello dipende da come tu hai imparato questo mestiere, da dove arrivi, perché le due spalle diventano molto larghe e riescono a sostenere un peso enorme se hai faticato, perché se non hai faticato poi è difficile insomma sostenere certe dinamiche, è un po' come quando fai il falegname, cioè il falegname devi imparare nel tempo, non è che arrivi e fai un tetto subito, se non ti casca addosso. Quindi la periferia e le due origini sono state una scuola importante? Sono state la scuola, non una scuola importante, sono state la scuola della mia vita, soprattutto le mie origini, i miei amici, il mio bar, le mie strade, le esperienze che ho fatto grazie al quartiere in cui sono nato e cresciuto, tutto è stato nelle mie canzoni poi, credo che se non avessi assaporato il marciapiede proprio in quel modo lì, tante cose non le avrei scritte, quindi la mia vita non sarebbe cambiata. Quasi 25 anni di carriera sulle spalle, qual è il tuo più grande orgoglio? Da così tanti so, 25 già. Quasi, hai esordito nel 2000, siamo nel 2023, tra due anni, perché quel periodo lì poi io non lo considero tanto, dal 2000 al 2007 non lo considero un periodo di attività musicale, non ho fatto l'altra attività e la mia soddisfazione più grande, l'orgoglio più grande, l'orgoglio più grande di essere ancora qui, cioè di continuare insomma ad avere la possibilità di raccontare la mia vita. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, ciao.